Il problema è che in piena ondata pandemica purtroppo la quantità di persone vaccinate è così bassa e c'è un altro elemento, se il virus circola tanto, anche se il virus se io sono vaccinato ho comunque una probabilità piuttosto alta di contagiarmi e di trasmetterlo. Quindi se vado in un ristorante, anche se io sono vaccinato, sono un medico vaccinato, posso essere portatore del virus e purtroppo nel ristorante sto senza mascherina, tocco tutto e quindi il contagio può... E quindi se gli altri non sono vaccinati, la pandemia non ce lo possiamo permettere. Cioè noi ancora oggi, il vaccinato praticamente non sappiamo se potrebbe continuare a trasmettere l'infezione. Esatto. Non è che non lo sappiamo, lo sappiamo. Cioè anche se la probabilità di trasmissione è più bassa, comunque questa probabilità... L'abbiamo visto, l'abbiamo visto che i medici vaccinati hanno comunque portato il virus in alcuni reparti. Che cosa sta succedendo? Che cosa sta succedendo qua? Ci faccia vedere. Che cosa sta succedendo?